La SIOMS, Società Italiana dell'Osteoporosi e del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro, ha all'interno una commissione editoriale la cui coordinatrice è la professoressa Ombretta Di Munno dell'Unità Operativa Universitaria di Reumatologia dell'Università di Pisa. Questa commissione è molto attiva, ne abbiamo parlato con la professoressa per avere maggiori delucidazioni e spiegazioni. Allora professoressa, di cosa si occupa questa commissione? Come lei ha già detto, essendo la SIOMS una società scientifica, ha un po' il dovere di dare informazioni che siano delle innovazioni dal punto di vista anche della ricerca scientifica, ma che abbiano anche un corrispettivo sul piano clinico, pratico, in modo che anche colleghi che non frequentano assiduamente congressi, convegni, quelli che definiamo noi colleghi che lavorano e operano sul territorio, possono avere delle informazioni molto utili sia per i termini di conoscenze, acquisizioni di nuove informazioni, ma soprattutto anche sul piano clinico. E quindi da un po' di anni ormai si impegna ogni anno, al di là di attività, di informazioni che possono comparire sul sito, che quest'anno fra l'altro è stato rinnovato, vi invito a visitarlo perché è veramente molto interessante. Al di là di queste informazioni si è un po' impegnata nel pubblicare ogni anno una sorta di monografia che viene decisa dai componenti della commissione e che affronta argomenti che a nostro avviso o hanno delle nuove linee guida nella pratica clinica o su cui la ricerca ha avuto degli importanti risultati o che riguardano aspetti di rilevanza anche nella pratica clinica. Alcune di queste pubblicazioni hanno avuto per esempio un carattere di tipo monografico affrontando un singolo argomento, per esempio abbiamo fatto in passato un testo che riguardava molto gli aspetti a 360 gradi della vitamina D oppure dell'impiego di corticosteroidi. Altre volte invece abbiamo deciso di affrontare vari argomenti diversi invitando anche colleghi che non fanno parte della commissione ma che per i loro peculiari interessi hanno un ruolo importante nell'ambito di… hanno ottenuto dei risultati importanti nell'ambito di queste delle varie malattie. Il volume che è compilato e che alla fine è appunto inviato ai soci è in forma cartacea o in forma elettronica? Fino a due anni fa era un volumetto e penso che molti dei colleghi ce l'abbiano e possa insomma rappresentare sempre un qualcosa di utile da consultare. Da due anni, in linea un po' con l'informatizzazione degli ultimi tempi, abbiamo optato per la versione online in modo che sia più facilmente fruibile e quindi anche quest'anno avremo subito dopo il congresso uscirà questa versione online del syllabus che affronta argomenti particolari. Per esempio quest'anno è stato affrontato l'argomento della fragilità dello scheletro e delle fratture in una malattia che purtroppo affligge molti nostri pazienti che è la malattia di Parkinson. Altro argomento che per esempio è stato affrontato è il diabete e le complicanze scheletriche in questa malattia che oggi vede molte pubblicazioni, molti studi interessanti. e un altro aspetto che verrà affrontato ad esempio sono le politerapie e l'interferenza dei vari trattamenti, ricordiamoci che i nostri pazienti nella maggior parte dei casi sono persone anziane quindi fanno molti farmaci, quindi le possibili interferenze dei farmaci ad esempio con una terapia per l'osteoporosi in modo da capire bene se quando diamo un farmaco che agisce contro le fratture e contro l'osteoporosi questo farmaco può alla fine si dimostri realmente efficace. Professoressa per quanto riguarda la tipologia di articoli sono soltanto articoli scientifici quindi di una certa rilevanza comunque o anche utili nell'applicazione della pratica clinica? Certamente la rilevanza scientifica è importante e quindi le notizie che vengono date e che vengono le informazioni sono scientificamente documentate però l'obiettivo è sempre quello di dare un aiuto e di fornire dei mezzi che migliorino la gestione del paziente anche nell'attività ambulatoriale di tutti i giorni soprattutto ripeto anche per quei medici che purtroppo per vari motivi non hanno la possibilità di frequentare congressi, convegni e quant'altro. Quindi invitiamo tutti a guardare e a studiare il sito della SIOMS. Certo direi che appunto questo sito è veramente quest'anno ha veramente degli aspetti molto innovativi e credo che il syllabus si inserirà proprio anche in un facile accesso e avrà una più larga diffusione proprio per questo motivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.